Oggi a Teramo, così come annunciato, l'inaugurazione del mercato contadino di Campagna Amica. Marco Tancredi, intanto possiamo dire che c'è una grande partecipazione? Sì, una buona partecipazione. Fino adesso abbiamo grande interesse, tenendo in considerazione che abbiamo fatto solamente la conferenza stampa di avvio giovedì, quindi ancora non abbiamo grossi mezzi pubblicitari in azione su questo specifico settore. Ricordiamo i prodotti, sono 12 circa gli stand qui presenti? Sono 12 stand, abbiamo diverse categorie merceologiche messe per stessa categoria, i formaggi, la verdura, i salumi, abbiamo due stand per la porchetta, abbiamo i dolci da forno, abbiamo due stand di dolci da forno, speriamo di aggiungere nelle prossime settimane altre categorie merceologiche per completare il mercato. Assolviamo diverse esigenze con questo nuovo mercato contadino, che vorrei ricordare si aggiunge al mercato contadino del Gall di Porta Romana e soprattutto ha un'esigenza e una richiesta di riqualificazione e di vitalizzazione di quest'area da parte dei commercianti ambulanti.